La difesa comune europea parte da lontano, parte dall'idea di paesi europei di mettere insieme la difesa già dagli anni 50. Una lunga stasi, adesso si trova nel momento in cui l'emergenza ha dato un'accelerazione e c'è davvero una possibilità, ma direi un dovere, un'esigenza di creare una difesa comune europea perché l'Europa possa diventare davvero un giocatore globale di sicurezza sui teatri di crisi e collaborare a evitare che crisi come quelle di Ucraina adesso si diffondano e anche per proteggere i cittadini, i valori dell'Europa e dei paesi che possono essere in difficoltà come la Moldavia e la Georgia. Quindi esiste questa possibilità, esiste questa spinta, esiste questa consapevolezza, partiamo da una base che è la bussola strategica che sta per essere approvata e che crea una forza di reazione rapida e immediata e dopodiché i paesi a Versailles hanno cominciato a impegnarsi per maggiori investimenti, per l'autonomia strategica nell'energia, nell'aumentare la base industriale e probabilmente questo è il punto di svolto per la difesa comune europea. Grazie.